oh eccoci qua hai capito roba da matti appena usciti dal cinema è ancora giorno tra l'altro sono le 20 e 30 circa lì sta per arrivare un bel temporale tutto bello nero andiamo con i riscorsi d'ascensore insomma dove c'è quanto scende sì e il film allora abbiamo visto un film italiano quest'oggi che si intitola settembre dove tra l'altro avremmo pensavamo di avere una scena anche col nostro parco lo steven che aveva fatto la comparsa però questa scena l'hanno tagliata quindi si è fatto una cominciata senza motivo si vede che hanno cominciato male quella si vede che l'ha slinguazzato troppo e quindi l'hanno tagliata perché non era molto credibile comunque è un film italiano con degli attori italiani di cui non ricordo il nome di nessuno però e ben ti voglio allora è un film che parla un po così di coppie di crisi di cose però però non alla mucino esatto non è alla mucino maniera è più simpatico divertente sì sì un film sul traggi comico serio però però molto carino molto carino e quindi niente cosa dirvi se vi piacciono i film un po così un po seri un po un po comici che fanno anche può pensare settembre ve lo potrete anche andare a vedere avevo detto mi sarei fatto una bar ma non sono più fatta e una morale trascurate e non trascurate vabbè sono poi quelle si rompono i coglioni te lo dicono una volta delle due te lo dicono tre dopodichè mandano a cagare se ne vanno con qualcun altro o un qualcun'altra barra altro tra scuri diventa quindi settembre molto carino e se vi piacciono questi appunto questi film così un po di coppie un po di così italiani così svolgili a ostia quindi parlano per un po romano e ve lo consigliamo perché molto carino quindi settembre e niente anche se siamo ancora che è maggio siamo adesso a maggio anche se maggio andate a vedere settembre perché è molto carino e noi adesso ci facciamo il nostro solito succedo e niente quindi alla prossima settembre e molto carino arrivederci